Ciao, mi chiamo Fabiana. Oggi parleremo di una delle razze più affascinanti del mondo canino, il Sibrianaski. Fu allevato come cane da slitta dalla popolazione seminomade dell'Alaska orientale. La naturale esuberanza dell'Alaski esige un padrone molto attivo e disponibile. La parola lavoro per il Sibrianaski è sinonimo di sport, allenamento e divertimento. E' un cane scattante e agile e dal movimento sciolto ed elegante. Sfatiamo questo mito, che se non ha gli occhi azzurri non è un vero Aski. Dato che l'Aski può averli azzurri, marroni, ambra o eterocromi, cioè uno diverso dall'altro, Il temperamento di questa razza è amabile e amichevole, quindi non ha dato la guardia. L'Aski è molto testardo, furbo e intelligente. Io personalmente mi sono ormai innamorata di questa razza di cane. Ah, non vi ho ancora presentato Zero. Di ciao a tutti, alla prossima! Ciao a tutti!